The Gift è un'altra produzione Netflix bellissimo anche in questo caso bellissima serie tv sono due stagioni da otto episodi si svolge in Turchia e anche lo staff è turco tutti gli attori attori turchi e praticamente c'è una famiglia una famiglia potente appunto di istambul l'altra è un cedo medio che si sta appunto il padre era un poliziotto insomma c'è una bambina adottata è un'altra naturale la quale scopre di avere di essere di avere delle delle visioni eccetera e di una sensibilità particolare quindi sogna un'immagine archetipica inizia a fare disegni fa anche una una mostra eccetera intanto si sta sposando con il figlio di questo potente locale però poi incontra questo archeologo lì sul sito su questo sito antichissimo dove appunto pare che sia nata la civiltà in Anatolia gli Elohim vabbè lì ci stanno cose poi particolari e quindi si sviluppa tutto intorno a questa cosa in questa situazione in questa situazione quindi c'è la famiglia le famiglie che voglio vorrebbero una vita normale lei che è combattuta poi nella seconda serie c'è stato uno stravolgersi gli eventi perché tutti si dimenticano la propria realtà c'è la sorella che appunto fa la stilista e non si ricorda della dell'altra sorella che cerca di appunto ritornare nella sua vita il padre che indaga perché lui è poliziotto quindi no è bello è bello da vedere in descrizione il link se ti è stato utile quindi questo video ti invito a mettermi like quant'altro ciao e alla prossima